Proprio ieri il report annuale della Cisla Abruzzo metteva in evidenza la difficile situazione economica delle edilizie in regione. Un meno 6% registrato come somma delle quattro province. Oggi il centrodestra presenta la richiesta di un consiglio comunale straordinario dedicato proprio alla delicata questione che sul territorio di Pescara ha registrato nell'ultimo triennio un calo del 25%. I numeri che abbiamo sono assolutamente preoccupanti. Solo nell'ultimo triennio c'è stata la chiusura di oltre 200 imprese quindi pari al 25%. La perdita di oltre 1.500 posti di lavoro pare quasi al 40% della forza di lavoro precedentemente impiegata. Tutto questo credo che abbia bisogno di una risposta forte concreta incisiva straordinaria da parte delle istituzioni. Il senso di questa nostra iniziativa e quindi il consiglio comunale straordinario aperto che si terrà martedì è proprio questo. Individuare insieme agli operatori del settore insieme ai rappresentanti e lavoratori al sistema delle imprese quali sono quali possono essere le soluzioni straordinarie per far fronte a questo drammatico problema che è economico e occupazionale. Nuovi incentivi per dare una spinta al comparto edile non solo sgravi fiscali ma anche interventi tesi alla sostituzione di vecchi edifici piuttosto che costruzioni ex novo. Iniziative capaci di ridare lavoro ad oltre 1.500 unità oggi disoccupate e 200 aziende che hanno chiuso i battenti senza pensare all'ammontare di tutto l'indotto del settore. Noi siamo molto attenti per esempio al sistema degli incentivi che in qualche modo potrebbero portare alla sostituzione del patrimonio edilizio vecchio che consuma molto anche dal punto di vista energetico un nuovo patrimonio edilizio quindi godendo di fatto di due benefici sostituzione di ciò che è vecchio con quello che è nuovo che funziona e che consuma meno dal punto di vista energetico e rilancio ovviamente anche dell'occupazione attraverso il sistema delle imprese edilizie ma soprattutto attraverso il vasto sistema dell'indotto che circonda il settore.